ci potete dare un ciak per favore appena compaio non 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 Buonasera, siamo qui per presentare l'ultimo lavoro di Giuseppe De Marzo, Radical Shock, diritto alla salute, collasso climatico e biodiversità, con una bella prefazione di Don Luigi Ciotti, edizione Castelvecchi. Insieme all'autore, alla mia sinistra, alla mia destra c'è Marco Tarquinio. Marco Tarquinio è il direttore del quotidiano Avvenire, che ha sempre fatto una scelta di campo rispetto ai temi dell'ambiente, e dell'ecologia. Ma fatemi dire due parole sul libro. L'economia non può essere fermata, dicono, ma di quale economia stiamo parlando? Al servizio di chi? E che succede se l'economia si scorda di essere un sottosistema finito dell'ecologia? Che succede se si costruisce un'economia che ha come effetti collaterali milioni e milioni di morti? E la distruzione delle risorse naturali? E soprattutto dei servizi ambientali gratuiti? Ecco, noi cominceremo subito con una richiesta al nostro Marco Tarquinio e prendiamo pagina 34 di questo libro dove Giuseppe De Marzo scrive «Dobbiamo scegliere da che parte stare. La neutralità è un'ipocrisia che aiuta solo i più forti e che non esiste in natura». Marco Tarquinio, il tuo giornale non è mai stato un giornale neutrale. No, diciamo che io teorizzo anche apertamente che questo non è il tempo dell'equidistanza. Bisogna sapere essere equilibrati, certamente, perché va ricostruito un equilibrio, ma non si può essere equidistanti tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, tra l'oppressione, tra chi opprime e chi è oppresso, tra chi è messo ai margini e chi lotta per uscire dalla marginalità. In questo senso bisogna saper fare delle scelte. Questo è un tempo che ce lo impone con un'urgenza particolare, perché non possiamo far finta di non sapere e di non vedere, perché è anche il tempo di una comunicazione diffusa che ci mette sotto gli occhi le realtà. Se abbiamo la pazienza, la forza, la tenacia di cercare di vedere, perché poi c'è anche chi continua a lavorare per nasconderci, in realtà. Il libro di Giuseppe De Marzo è un libro che aiuta molto, un libro agile ma denso, perché aiuta a mettere gli occhi sulle realtà che vanno viste nella loro interezza. Giuseppe De Marzo è un economista, è un attivista, è uno scrittore e ha lavorato per molti anni sul campo, sia con i movimenti sociali latinoamericani al fianco delle popolazioni indigene, sia oggi al fianco di tutto il mondo delle reti e delle comunità. Ricordiamo che venne addirittura arrestato in Ecuador nel 2002. Torno ancora al nostro Marco Tarquinio. Nonostante i 40.000 chilometri, scrive De Marzo, di filo spinato e di muri costruiti negli ultimi anni, il Covid non è stato fermato, è arrivato. Abbiamo capito che non potevamo fermarlo. Il tuo giornale ci ha fatto compagnia durante il periodo peggiore, io vorrei anche spezzare una lancia perché è stato l'unico quotidiano che si è permesso un grande lusso, un quotidiano che non è un quotidiano ricco, che non ha dietro di sé le grandi forze economiche che molti altri quotidiani italiani hanno senza fare nomi, ebbene l'avvenire durante il periodo peggiore del Covid si poteva avere gratuitamente. Anche questo era un muro che andava picconato, che non si andava a far cadere, nel momento in cui manca il pane anche di un'informazione così essenziale, perché le edicole sono chiuse, perché non possiamo uscire e raccogliere notizie non solo attraverso i canali ufficiali, più o meno a volte viene il pensiero, domesticati, controllati. È bene che quello che è possibile raccogliere si raccolga attraverso però pozzi di acqua potabile, come li chiamo io, cioè i luoghi dove si fa un'informazione con responsabilità al servizio della gente, con chiarezza di riferimenti ideali, ma senza interessi nascosti da custodire e coltivare. Questo è un tempo particolare, tra i muri tu dicevi dei muri, che non sono bastati ai fili spinati e reticolati, non sono bastati a fermare la pandemia. Hanno svelato la grande menzogna di questi anni, che è stata l'idea che le persone possano salvarsi se riescono a chiudersi in un angolo, a recintarsi nel proprio vero presunto benessere e mettersi al sicuro. Nessuno è al sicuro da questo punto di vista. Noi italiani abbiamo scoperto, soprattutto nella prima fase della pandemia, quando sul rovescio del muro siamo stati noi. All'improvviso, dopo per anni di retorica sui muri da alzare verso altri, che venivano da qualche altrove, per qualche tempo siamo stati gli appestati del mondo. E questo ci ha fatto capire che qualunque muro si costruisca sempre un rovescio. E prima o poi ti tocca il rovescio del muro. In questo è stato un esito persino benedetto, una pandemia che nessuno si auspicava e nessuno vorrebbe che tornasse con forme acute. Però dobbiamo saper fare tesoro di questa visione. De Marzo scrive proprio nelle prime pagine che la pandemia ci ha messo tutti spalle al muro. E Don Ciotti riflette su questo nuovo paradigma su cui tanto insiste Papa Francesco nell'Alaudato Si. È un paradigma che scaturirà da un'analisi che ci dice che i problemi che stanno mettendo a rischio la sopravvivenza del paese e della specie umana vengono da noi, dal nostro mancato rispetto per la madre terra. Da un modello di sviluppo. Lo sviluppo in sé non è mai un male, anzi. Lo sviluppo è parte della vita. Una vita che non si sviluppa è una vita che declina e muore. Però c'è sviluppo in sviluppo. C'è uno sviluppo che è costruito secondo quella che viene chiamata la grammatica delle relazioni, quella corretta, che ti mette in relazione buona con gli altri che sono intorno a te, con la storia di cui sei parte e con la natura in cui sei immerso. Nel momento in cui si rompe una di queste relazioni o non la si considera degna di essere custodita, a quel punto entra in crisi tutto il sistema. Noi lo stiamo sperimentando ripetutamente e in maniera anche drammatica. Sulla pelle soprattutto anche qui, le più poveri, senza voce, le più deboli in tutto il mondo. Ma anche nella nostra Europa. E la pandemia ci ha aiutato a vederlo con più profondità. perché in questo tempo sono emersi tutti quelli che sono stati marginalizzati e vivono male perché il sistema ricostringe a vivere male la loro relazione con l'ambiente, con gli altri e persino con se stessi. Giuseppe tu scrivi Pensavamo di essere sani in un mondo malato. Noi non siamo sani. Non potremmo mai esserlo considerando i livelli di inquinamento e di distruzione ecologica. a cui stiamo sottoponendo la nostra casa comune. Intanto buon pomeriggio a tutti e a tutti quelli che ci stanno guardando. Grazie a quelli che ci riguarderanno. Un grazie di cuore a Paola Severini Melograni, al direttore Marco Tarquinio, alla San Paolo per ospitarci. La straordinarietà dei tempi che viviamo sono anche scanditi da questa presentazione che noi facciamo, sì senza mascherine per chi ci vede, ma facciamo qui da soli. La gravità del momento dovrebbe farci riflettere, come tu ricordavi, sulla relazione che ogni entità vivente, essere umano incluso, ha con le altre entità viventi. E cioè quando il Papa in quella piazza vuota si è affacciato per dirci che non potevamo pensare di essere sani in un pianeta malato e stava mettendo in un linguaggio migliore. Per certi versi quello che noi economisti ecologici, chi si occupa di giustizia ecologica e movimenti per la giustizia ambientale, ripetono da più di vent'anni nel pianeta Terra. E cioè che ogni entità vivente è relazionata, corrispondente, complementare, reciproca alle altre. Che vuol dire? Vuol dire che io per vivere ho bisogno di tutto il resto perché la natura ha ponderato ogni entità vivente. Cioè in natura non esistono scarti. La stessa cosa fateci caso di cui parlava il Papa quando diceva trattate gli esseri umani come scarti. La natura non ha scarti, non produce scarti. Questo vuol dire che anche noi, i nostri sistemi economici, produttivi, possiamo arrivare a non produrre scarti, ad esempio. La relazione tra me, gli ecosistemi, tutte le entità viventi, la relazione sana, la relazione equilibrata, produce il benessere della mia vita, lo sviluppo della mia comunità di natura umana. Nel momento in cui questa relazione di scambio viene spezzata, io non riconosco valore in quanto tale alla vita che ho intorno a me, ma l'ho oggettivizzata, l'ho resa merce da mettere sul mercato. Penso che la Terra sia inerme, quando in realtà noi sappiamo che la Terra è un sistema autopoietico in continua trasformazione. Anch'io sono un'unità autopoietica, se mi taglio un braccio sono in grado di rigenerarmi. Questa è la forza, la logica ciclica del sé, si dice anche in fisica come fa Capra. La capacità di scambio alimenta l'equilibrio e quello che ho in pancia dipende dalla biodiversità fuori. Questo scambio tra tutte le entità viventi migliora l'equilibrio per tutti e fa sì che noi ci possiamo difendere dalle crisi economiche, dalle crisi ambientali, dalle crisi provocate dai nuovi virus che sono conseguenza diretta dei cambiamenti climatici. Eccomi Giuseppe, la domanda più importante a cui tu hai risposto nello spazio di una canzone a Rai 1, nella nostra striscia di Insieme con durante il Covid, c'è veramente una relazione tra il Covid e i cambiamenti climatici. C'è il pericolo dell'insorgenza, di pandemie nuove e abbiamo possibilità di ridurre il rischio? Io dico, questo a tutti quelli che ci fanno questa domanda, è una cosa meravigliosa alla fine, comprendere ed essere consapevoli della fragilità e dell'interdipendenza che c'è fra tutti noi. L'OMS ce l'ha detto dal 2007, l'OMS ha detto nel 2007, quindi lo sapevamo, che i processi di alterazione e di trasmissione dei nuovi virus sono direttamente collegati al collasso climatico, cioè vuol dire che c'è una reazione a catena che si instaura, nel momento in cui cambia il clima, stiamo vivendo una fase di collasso climatico, gli animali ad esempio selvatici, visto che il 90% dei virus è di natura zoonotica, sono costretti a lasciare i loro ecosistemi, si spostano in altri luoghi, portando i patogeni con loro, ovviamente nel loro viaggio, quindi i virus, i batteri, quando trovano una nuova casa, li diffondono e quando fanno il clover di cui avevamo parlato già otto anni fa, lo scrittore che aveva scritto un testo importante da questo punto di vista, li diffondono a noi umani che non abbiamo le difese immunitarie, non siamo in grado di rispondere perché abbiamo scelto di rispondere spostato degli animali selvatici con il loro virus da zone in cui erano confinati, dove erano, vivevano la loro vita e quindi il diritto alla vita che va garantito a queste creature, nel momento in cui interrompiamo, vedi Paola, il diritto alla vita di questa entità, la nostra stessa vita viene messa in discussione, quindi se noi sappiamo che i cambiamenti climatici spostano gli animali selvatici e che quindi questi troveranno altri luoghi e quindi il loro spillover produrrà un impatto negativo per tutti noi umani, abbiamo il dovere, la responsabilità di vietare ad esempio il commercio internazionale di animali selvatici, di impedire la distruzione delle foreste primarie, delle zone umide della terra che sono importantissime per contenere i nuovi batteri. Queste sono le misure che vanno messo in campo non solo per telare la nostra vita e la nostra economia, ma per fare quel salto culturale che ci chiedono in tanti, dal Papa alle comunità indigene, a chi si batte per i diritti umani, a chi parla di riconversione ecologica, guardate non è solo una questione tecnica, normativa, economica, è una questione culturale, dobbiamo fare un balzo, perché se non riconosciamo il diritto alla vita alle altre entità viventi intorno a noi non ne usciamo in generale. Io vorrei tornare al direttore di Avenire Marco Tarquinio, questo libro parla di un'alleanza indispensabile tra equità sociale e sostenibilità ecologica, tu con il tuo giornale lo hai dichiarato molte molte volte, ma siamo in grandi linee tutti d'accordo, e poi che cosa succede? No, siamo d'accordo a parole, perché in realtà molti sostengono che non è possibile ad esempio costruire ad avere equità sociale in uno stato di benessere diffuso, se non utilizzando in maniera anche brutale la natura che è intorno a certe condizioni. Questo è un pensiero che è stato a lungo dominante, resta ancora molto forte ed è ostile e acuto nella resistenza a quel pensiero che pure vale la direzione che tu Paola indicavi, che Giuseppe De Marzo nel suo libro illustra e propone e sostiene a sua volta con eloquenza di argomenti, perché questo non è comodo, significa veramente rompere lo schema che fin qui si è rivelato quello vincente o perlomeno quello che si è affermato con più forza, che ha avuto alla fine anche una convergenza di sostegni politici che venivano da direzioni diverse, perché si è confluiti tutti verso questo pensiero dominante, come dice ancora il Papa, che tende a farsi unico, che nel nome di un progresso che in realtà era anche un regresso, perché spezzava le relazioni fondamentali degli uomini e delle donne ha costruito un sistema nel quale stiamo stretti, nel quale soprattutto, se lo stiamo capendo bene adesso, non abbiamo un futuro, un futuro decente. Allora, questa è la sfida che ci sta davanti oggi, il cambiamento di paradigma di cui si è appena detto, o come dice ancora Papa Francesco, il cambiamento di epoca, a quale ci dobbiamo adoperare, dobbiamo comprendere, sapere interpretare, è proprio qui. Non si tratta di cercare una terza via rispetto a ciò che abbiamo vissuto fino adesso. Consentitevi allora anche a me di usare delle parole grandi, qualcuno, appena è uscito un'altra in cicli che è importante, quella sulla fraternità del Papa, fratelli tutti, che è sorella, estettamente collegata e continua il discorso della Dato Si, in questa visione integrale tipica di Francesco. Però lì si riprendono le grandi parole della rivoluzione che ha presieduto, come dire, anche un tipo di sviluppo che c'è stato nel nostro mondo, nella parte emersa del mondo, la parte del nord del mondo soprattutto, dalla rivoluzione francese in avanti, il primato della ragione è il nome della libertà, dell'uguaglianza, della fraternità. Nel momento in cui tu hai la libertà e l'uguaglianza, togli l'elemento della fraternità, la fraternità è stato l'elemento che è stato espulso dalla storia e dalla storia politica dei popoli, ti ritrovi con un libertinismo che fa strage della natura e delle relazioni tra gli esseri umani e un egualitarismo che è massificante e non riconosce il valore dei singoli e delle persone dentro la dimensione comunitaria. La fraternità è quella che consente di coniugare la libertà con la responsabilità, l'uguaglianza con il rispetto per la personalità. Questa è la sfida che ci sta davanti e oggi dobbiamo saperlo comprendere che non è la terza via, è il modo per comporre in armonia ciò che abbiamo disarmonicamente calato nei nostri sistemi e nelle nostre vite. Direttore, il fatto che tu scelga di utilizzare un linguaggio alto è qualcosa che ci consola, che ci conforta e viva Dio, finalmente, finalmente. Il libro di De Marzo è un libro come è lui, chiaramente, è un uomo coraggioso e inguaribilmente ottimista, però nel secondo capitolo che è intitolato L'unica costante della vita è il cambiamento, lui ha un momento di sconforto, un brevissimo momento. A Roma dicono sì, appunto, gli EPR core così e dice, leggo, non è cambiato nulla, anzi è impeggiorato, perché il punto di svolta in cui siamo rende ancora più aggressivo il modello liberista e i suoi seguaci, da Trump a Bolsonaro. Ora, invece, un cambiamento forse sta per avvenire. Oggi siamo al 14 di ottobre, il 4 novembre è molto vicino. È possibile che un cambiamento negli Stati Uniti possa poi scatenare un meccanismo virtuoso che ci darà una possibilità a tutti, ma sempre qui il nostro, e ora ripasso il microfono all'autore, utilizza un termine che io non conoscevo, il presta leader. Ce lo spieghi? Ce lo spieghi, Giuseppe? Curiosamente era piaciuto anche al direttore dell'Espresso quando abbiamo presentato il libro al festival insieme all'auditorium. È curioso la decinanza di scelte. Chi è il presta leader? Il presta leader è quel soggetto, quell'essere umano, tendenzialmente maschio. Non ci sono le presta leader. Tendenzialmente maschio nel nostro paese che si presta a portare avanti una proposta degli obiettivi politici non avendone assolutamente nessuna contezza, potendone cambiare sistematicamente nell'arco di una settimana svariati, cioè che è capace, non essendo il prodotto di una cultura, di una consapevolezza, di un cammino collettivo, a vendere la sua opera in quanto tale di leader politico a un modello, a una lobby, a un editore di turno. Noi siamo circondati purtroppo nel nostro paese da presta leader. Non si tratta di essere fastidiosi, ma si tratta di riconoscere un po' la necessità che abbiamo come paese, come cittadini, di evidentemente una classe dirigente politica di altro tipo. Prima il direttore ricordava alcune questioni dell'equità sociale nel nostro paese, legandole al modello e quindi alla necessità di ripensare sostanzialmente le politiche industriali. Io aggiungerei un'altra roba da condividere con i nostri presta leader, ma sapendo che non avremo risposta e questo pone un altro problema sul che fare. E cioè, noi oggi sappiamo, e questa è un'altra delle novità, per cui non abbiamo bisogno, e condivido quello che diceva il direttore Tarquinio, di una terza via. Noi abbiamo bisogno di una via per entrare nel terzo millennio. In questa via noi sappiamo, almeno chi nell'Ottocento e nel Novecento si è occupato di ingiustizie sociali e quindi di lotta contro le diseguaglianze, quindi di garantire ai più poveri diritti che prima non c'erano, per capirci, sappiamo che la battaglia per la giustizia distributiva, per la giustizia sociale, è stata fondamentale nel Cattolicessimo Sociale, nel socialismo giuridico, per il movimento operaio, per i comunisti, per i democratici in generale. Oggi siamo consapevoli a livello scientifico, ce lo confermano le Nazioni Unite e l'NDP da oltre dieci anni, che ogni aumento della povertà e delle diseguaglianze è direttamente collegato alle ingiustizie ambientali. Boom. In economia scriviamo nuovi libri, diamo in oboli infatti ad altri economisti come Marti Asen, a Eleonora Holstrom, che ci raccontano del fatto di come le vecchie teorie economiche che immaginavano di fare giustizia sociale con dei vecchi modelli, non sono più attuabili. Non sono più attuabili. E quindi noi abbiamo la necessità di fare la giustizia sociale attraverso la giustizia ambientale. C'è la precondizione per garantire i poveri, anche se a me non me ne frega niente dell'ambiente, degli animali, di niente, è garantire giustizia ambientale. Solo così faccio giustizia sociale. Il direttore infatti all'inizio ha ricordato che i poveri vengono colpiti due volte dal Covid. E' uguale. Le ingiustizie ambientali colpiscono i poveri due volte. Pensate ai poveri dell'India o chi vive nelle situazioni nel nostro paese dove non siamo intervenuti, penso al distesto idrogeologico e perdi tutto, la casa, la vita, l'economia locale. Sei colpito due volte perché magari la loro impronta ecologica, il loro spazio biuriproduttivo preso è molto minore rispetto ad altri. Ora, quindi siamo davanti alla complessità di problemi che non possono essere risolti con slogan da presta leader, per cui io, scusatemi, non riuscirò mai a fare leader politico se questa è la politica perché non si può ridurre la complessità della gravità dei problemi che abbiamo davanti in 140 caratteri. Abbiamo bisogno, come ci ricordano Capra e altri, di un approccio sistemico. Però tu qui ti rispondi, perdonami, quando dici non devi essere grande per iniziare ma devi iniziare per essere grande. Iniziare significa intanto dire la verità come ci chiedono i ragazzi del Friday for Future, di Estinction Rebellion. Dubito purtroppo che l'attuale classe dirigente italiana per come è stata selezionata sia in grado persino di dirlo. Facciamo a Marco Tarquinio questa domanda che è quella che tu ti chiedi, alla luce del post-Covid, che cosa succede al sistema sanitario nazionale e noi tutti ci aspettavamo un cambiamento. Non è detto, caro direttore Tarquinio, che questo cambiamento non ci sia, un cambiamento nella linea di Giuseppe Verdi, torniamo all'antico, sarà un progresso. Noi che abbiamo ereditato da grandi cattolici democratici come Dona Catten, un grande sistema sanitario che tutto il mondo ci invidia, oggi ci chiediamo chi l'ha smantellato e perché, ma possiamo assolutamente, scrive De Marzo, ci saremmo aspettati investimenti nella medicina territoriale. Ce li aspettiamo, non ci saremmo aspettati. No, siamo al dibattito, questo è un motivo di sconforto, se usare o no le risorse disponibili, ci riesco al messo in modo particolare. Ci arrivano tanti soldi, direttore. I soldi non arrivano mai per caso, o arrivano perché ti devono comprare o arrivano perché sono dentro un progetto. in questo momento l'Europa, dopo anni di titubanze, sta provando ad abbozzare un progetto nuovo. L'abbiamo chiesto per più di vent'anni questo cambio di passo, ci voleva la spallata del Covid e ci voleva una doppia leadership femminile tedesca. non sono dei prestali. Sta terminando quella di Angela Merkel, Merkel è l'altra quella di Ursula WDL, come la chiamo io per far prima, Ursula for the Lion, alla presidenza della Commissione Europea. Con uno sguardo che va lontano, a me piace molto, anche se in Italia continuiamo a parlare di Recovery Fund, che il piano si chiami Next Generation EU, la prossima generazione europea. È qualcosa che riguarda noi, i nostri figli. Noi siamo due nonni, direttore. Quindi a me sta molto a cuore questo tema. Ma soprattutto, se noi parliamo delle risorse che devono arrivare, facciamo il dibattito se le risorse dobbiamo accettare o meno, è paradossale nel momento in cui ci sono da liberare soldi per fare altre cose che sono urgentissime, e magari lo dico in un attimo, ma per finire il discorso sulla sanità, avere dei fondi a disposizione a un costo, se dovessimo prenderli a debito, col debito italiano, e siamo nelle condizioni di farli a debito, perché non abbiamo altro mezzo, spenderemmo circa 6 miliardi in più che se li prendiamo attraverso i canali che l'Europa mette a disposizione. Questo è un conto un po' terra a terra, però aiuta a capire i termini della questione. Un conto è spendere 6 miliardi e mezzo per finanziarne 36-37, e un conto è spenderne 360 milioni. Cambia tutto. E al tempo stesso liberiamo risorse che possono essere utilizzate per la cosa che mi sta più a cuore, l'istruzione, perché i cambiamenti, le nuove vie, le vie alternative, si costruiscono con la formazione della gente, accrescendo la consapevolezza della gente, aiutando le nuove generazioni a dotarsi di tutti gli strumenti per leggere la realtà e interpretarla nella maniera migliore possibile. Così si ricranano le condizioni della relazione virtuosa con tutto ciò che ci circonda. Questo è il punto chiave, ma possiamo liberarli per altre questioni che vanno da le questioni della giustizia, delle carceri. Tutto ciò che è dentro la stagione nuova che bisogna saper costruire nel nostro paese è il segno della giustizia e dell'equilibrio nel rapporto con le cose e con le persone. È una grandissima opportunità che abbiamo ora e che non ci si ripresenterà. Il paradosso delle crisi dure come questa, il paradosso delle crisi dure come questa, che sono anche momenti propizi, straordinariamente. Perché consentono di fare, per certi versi, un reset e di far ripartire i processi. Il problema è che bisogna avere le idee molto chiare su dove orientarli. Perché se si riorienta di nuovo in maniera sbagliata, come dicevi prima, per tornare all'indietro dopo che ci siamo riempiti la bocca di retorica sul niente sarà come prima e poi invece scopriamo che c'è una coazione a ripetere gli errori già fatti, chiuderci in un'ottica veramente assistenziale. Abbiamo bisogno di dare, rispettare la dignità delle persone e la voglia che c'è nel nostro paese di costruire su basi nuove un sistema, direbbe Giuseppe Di Marzolo e spiega per tutto questo libro, giusto. Che sembra una parola facile ed è la cosa più difficile da realizzare come scopriamo. In un paese in cui i poveri sono in aumento e le persone senza speranza sono troppe e si mescolano, attenzione, fatemi dire quest'ultima cosa, anche con i furbi che fingono di essere poveri, perché ce ne siamo accorti con il reddito di cittadinanza e ci sono persone che non hanno neanche fatto la domanda e anche con questi finanziamenti che non erano in condizioni di povertà assoluta. grotteschi, abbiamo analizzato il tema della sanità e ci siamo trovati noi tre d'accordo. Un altro tema importante è quello dell'agricoltura sostenibile. Giuseppe Di Marzo scrive, coltivare la biodiversità equivale a coltivare la salute. Lo strumento, che dobbiamo fare? Tu fai proprio delle scalette, hai delle indicazioni precise. Sì, perché non c'è granché da inventarci fondamentalmente, ci aiutano… Qui parli di sette punti. Ci sono, diciamo, delle cose molto essenziali che ci sono state proposte. Le vogliamo elencare? Sostanzialmente, non so se abbiamo il tempo per elencare… Velocemente, restituire il controllo sulla filiera alimentare a chi produce. Questo è un grandissimo tema, nel nostro paese incrocerebbe per esempio anche sul controllo della criminalità organizzata su certe filiere a proposito di andare attraverso un approccio sistemico ad affrontare problemi complessi. L'agricoltura è un elemento centrale se vogliamo riconvertire la nostra economia. Tra l'altro, guardate, quando noi parliamo di riconvertire l'economia, così ci facciamo capire ancora in maniera immediata, perché io vengo dal sud e quindi in questo momento per noi le cose essenziali sono lavoro e salute. Se noi vogliamo rimettere insieme il diritto al lavoro con il diritto alla salute del nostro paese, abbiamo solo una strada. Parliamo dell'agricoltura sostenibile. Agricoltura e riconversione delle attività produttive. Quindi l'agricoltura è centrale. Tu segnali al punto 3 produrre e consumare meglio e va bene, siamo tutti d'accordo, ma anche diminuire il consumo di carne. Torni su questo. E' un tema, purtroppo non si tratta, guardate, di… E' una realtà. Qui non c'entra la filosofia o l'etica, c'entra anche, per chi non vuole, non voglia ovviamente, se no c'entrerebbe anche quello, quello è un approccio razionale. Cioè si dice che noi non siamo in grado… Ogni tanto, Giuseppe, per chi ci segue, sì… Ma non siamo in grado di tenere… Pezzetto di salame. Va bene, ma il tutto dovrebbe essere fatto con equilibrio, come diceva il direttore. Allevamenti intensivi in cui noi alliviamo 3 miliardi, perché lì ci sono i numeri, come hai letto, 3 miliardi di bovini, miliardi di volatili. Innanzitutto significa levare spazio più riproduttivo al resto dell'agricoltura. Impiegare troppa acqua e rendere il nostro terreno più sterile. Questi sono elementi che riguardano la sopravvivenza anche della razza umana, per cui dovremmo mangiare almeno o meno carne. Quando noi azzaniamo una bistecca, dobbiamo farla questa riflessione. Bisogna riflettere. Questo non significa vietare la chianina, vietare… Ecco, capiamoci. Si devi, devi direttore, perché alleggeriamo anche un po'. No, nel senso che il rischio è che, se non si capisce che l'equilibrio alimentare è importante, alterniamo fasi di sovralimentazione con fasi di diete strettissime che sono diventate la moda e la dannazione di noi tutti, no? Quindi, qualcosa dei nostri… in questo ritorno al passato può essere utile. C'è la saggezza dei vecchi, la tanto famosa e amatissima da direttore di tutto il mondo dieta mediterranea, che era un equilibrio, che è composta con un equilibrio di elementi nutritivi diversi, senza la predominanza di nessuno in assoluto, ma mescolandoli. È la dimostrazione che quella è la strada giusta. Ecco, è così, la prima medicina che noi diamo al nostro corpo è il cibo che ingeriamo, per cui il cibo vuole dire anche cultura, vogliono dire tante cose. Nella domanda che ponevi tu, e quindi come riconvertiamo l'economia, rimettiamo insieme salute, lavoro, partecipazione, protagonismo delle comunità, l'agricoltura è un tema centrale, pensa all'angrebing, l'avrei letto lì, e quindi cos'è il land grabbing? Il controllo da parte di multinazionali, addirittura di stati, di pezzi di terra, ma non pezzettini, pezzi grandi quanto stati interi. Quanto nazioni. Oggi l'Africa praticamente viene mangiata. Cosa ci vogliono fare i cinesi o la DAEV lì? Ecco, ce lo racconti. Ci mandano i robot perché, secondo voi, con i cambiamenti climatici si potrà produrre come prima e potremmo mandare lavoratori a 50 gradi. Intanto stanno mandando i galeotti, perché molte persone non sanno che vengono impiegate a proposito di approcci disumani, ma per il futuro si pensa di far coltivare queste terre per le derate alimentari, quindi per la sicurezza alimentare di questi paesi. E quindi tu compri, pensate dove siamo arrivati, compri porzioni interi di territori, di stati sovrani, noi parliamo di sovranità, per garantire la tua sicurezza alimentare. E importi la mano d'opera che serve per lavorare quelle terre. Quindi non solo usi la terra e ne porti via i frutti, ma anche il lavoro che la fa fruttificare in un modo o nell'altro è un lavoro di importazione che poi non lascia nulla. Posso guardare con una lente più approfondita la complessità di ogni questione? Ci aiuta a capire quali risposte mettere in campo. Perché anche quando parliamo di questo stiamo parlando anche di migrazioni, parliamo di migrazioni ambientali e del fatto che molti con il collasso climatico sono costretti a lasciare le loro terre, le loro abitazioni, recarsi nelle nostre città, poi siamo arrabbiati se arrivano le persone. Allora se vogliamo affrontare il tema dell'agricoltura, delle migrazioni ambientali, della lotta alle mafie, della riconversione ecologica, del lavoro, della salute, della lotta al Covid, dobbiamo uscire da un modello che continua a semplificare, a rimandare tutto alla crescita economica intesa come unico fine. Non ce lo possiamo più permettere, per cui abbiamo bisogno di guardare ad altro. Ma la buona notizia è che non è che ce lo stiamo inventando qui, altro già c'è. E magari nei sud del mondo, come spesso ci ricorda il Papa, questo altro è anche maggioritario, è gemone sul piano culturale. Dobbiamo tornare a discutere di questi temi, mettendoli insieme. Cioè se vuoi fare una battaglia per il lavoro, o per i servizi, o per la riconversione, non parli fra tutto ciò che è colpito da questo sistema, non ne usciamo. Per cui abbiamo anche la necessità di mettere insieme i pezzi, di comprendere che siamo tutti vittime di un modello economico che ci rende diseguali in termini sociali, che rende insicura la mia vita. Non è il migrante in mezzo a mare che rende insicura la mia vita. È Salvini quando privatizza la sanità e l'incapacità di gestire la regione Lombardia, come l'hanno fatto forzitare la Lega, che espone a rischio molte persone. Quindi dobbiamo capirci anche e rideclinare noi, avere la forza di farlo, parole come sicurezza, sovranità, perché sono parole importanti, sviluppo. Non ne dobbiamo più cedere, dobbiamo avere la forza perché abbiamo la ragione dalla nostra parte, l'umanità dalla nostra parte, per rideclinare le proposte che possano farci avvicinare a tante persone che vivono una situazione difficile e che pensano che magari con una spugnetta, un po' di greenwashing, oppure cacciando i migranti ne usciamo. Non è così. Abbiamo bisogno di fare un balzo. Siamo arrivati al termine dell'incontro di questa sera e io ho pensato di chiudere con l'ultimo capitolo che mi è piaciuto particolarmente. Mi è piaciuto tutto il libro, per chi ci ascolta ve lo ricordo e ve lo consiglio nuovamente. Il libro è intitolato Radical Shock e già dal titolo, voi capite, il peso, l'entità di queste dichiarazioni, di Giuseppe De Marzo, edizioni Castelvecchi, con una bellissima introduzione di Don Luigi Ciotti. Ed eccoci al Rush finale. Prima passo nuovamente la parola al direttore Tarquinio e poi chiedo all'autore di aiutarmi a concludere. Direttore, De Marzo parla di diritti e dice che ci vorrebbe una carta costituzionale che dia uno spazio ai diritti ad un ambiente vivibile come l'Equador. Addirittura l'Equador l'ha fatto? No, no. E la Bolivia. Tu l'hai letto con attenzione perché il direttore Tarquinio ai libri li commenta, ma li legge tutti dalla prima all'ultima pagina e quindi è davvero questo di cui abbiamo bisogno anche in qualche modo questi diritti di definirli, istituzionalizzarli, scriverli, dichiararli. Certamente noi uomini abbiamo bisogno anche diritti, qualcuno se l'ha spiegato. Uno dei riti fondamentali è quello di codificare solennemente delle idee che danno senso e illuminano la nostra vita e i processi attraverso i quali la vita si realizza in forma comunitaria. La costituzionalizzazione di un'idea è qualcosa di estremamente potente. Spesso, parlando anche della revisione della nostra carta costituzionale, diciamo che si può toccare tutto, ma non la parte dei principi. Certamente non per togliere. Per aggiungere, per integrare. Io sono quello dell'et-et. Poi da, lo dico, da assi sano, essendo per nascita con cittadino di Francesco e di Chiara, dico sempre al femminile. Francesco Annesimo è maschile e femminile. Ecco, anche quello. Ho profondamente in me la consapevolezza dell'importanza dell'idea dell'ambiente, che sotto traccia c'è nella nostra carta costituzionale. Però è sotto traccia. Ma sai, nel 1947 mai questi poverini avrebbero immaginato… Lo scempio a cui avevamo assistito fino a quel punto, la nostra Italia era ancora un'Italia eminentemente agricola, che si preparava a cambiare il proprio modello. L'Italia e Giappone sono le due nazioni che sconfittano la seconda vera mondiale, hanno cambiato più radicalmente il proprio modello. Però quando è stata scritta la Costituzione… Non era così la situazione. Non era un'emergenza assoluta, non si pensava che si dovesse codificare. Ripeto, anche se sotto traccia in diversi passaggi questo possiamo individuare e farlo emergere. Forse questo è davvero il tempo per farlo. Bisogna essere molto saggi anche per dove inserirlo, scegliere il punto giusto, per non trasformarlo in un accessorio di qualche visione economicistica, ma trasformarlo davvero in uno dei perni. Facciamolo, su via. Questi sono diversi che lo stanno proponendo in diversi modi. Do merito a Giuseppe De Marzo per riproporlo anche in questo suo testo. C'è il professor Ferraglioli, c'è Raniero Lavalle, tante persone stanno lavorando su questo anche con la Costituente per la Terra. Lo propongono anche a livello globale, non solo a livello italiano. Credo che sia obiettivamente un processo, una battaglia globale che va vissuta come tale. Giuseppe, chiudiamo con quello che tu scrivi. Riconoscere i diritti della natura nella Costituzione piegherebbe l'economia alle ragioni della riconversione ecologica del modello produttivo per garantire sostenibilità ecologica ed equità sociale. E scrivi ancora, non si tratta più di essere coraggiosi per portare avanti il cambiamento, basta essere realisti. basterebbe imparare e cooperare con la natura. Ce l'ha insegnato Leonardo da Vinci che è stato una delle persone più intelligenti della storia del nostro paese, è stato il primo a studiare quella che è stata chiamata biomimetica, biomimesis e quindi lo studio si copia della natura, si può cooperare con la natura e progettare per la vita perché di fatto abbiamo dichiarato guerra alla terra. La ferita più grave che portiamo dentro come esseri umani per certi versi è questa. Noi abbiamo dichiarato guerra alla terra e quindi a nostra madre, a colei che ci nutre, alle entità viventi che ci circondano e che in maniera silente garantiscono la nostra vita, la riproducibilità delle nostre vite. Per cui fare pace con la terra significa fare pace con noi stessi. Per fare pace con noi stessi significa che dobbiamo riconoscere che non sono solo io il soggetto al centro della vita. La vita è al centro. E noi che abbiamo una responsabilità morale, come dice Freibetto, Leonardo Boff, rispetto a tutte le altre entità viventi perché siamo in grado di distruggerlo questo ecosistema, quindi abbiamo la responsabilità morale di tornare a essere il frater, non il dominus. Per cui dovremmo licenziare il dominus, il prodotto del capitalismo, quindi l'uomo economicus e riassumere il frater che si ricorda perfettamente che per garantire la propria vita deve riconoscere quella degli altri. Se non riconosciamo che tu ti chiami Paola, che tu ti chiami Stefano, che tu ti chiami Marco, che tu ti chiami... non riusciamo. Per cui riconoscere le altre entità viventi e garantire questo riconoscimento nella Costituzione è un passaggio fondamentale per passare dall'antropocentrismo che assomiglia sempre più allo specismo a un concetto di biocivilizzazione. Io sono vita in mezzo alla vita che vuole vivere e questo diritto va garantito a tutti. Beh, mai come con me e soprattutto col direttore Tarquinio trovi due difensori del diritto alla vita. Io ringrazio chi ci ha seguito, ringrazio la libreria San Paolo, le edizioni Castelvecchi, il nostro grande autore Giuseppe De Marzo che ci ha fatto anche riflettere con i suoi ricordi del Sud America, ha citato Leonard Boff, il direttore di Avvenire Leggete Avvenire, il miglior quotidiano italiano. Lo dico non perché non ho nessun tipo di interesse e il direttore lo sa, ma perché ne sono convinta fermamente e mi permetto anche di fare una battutaccia così facciamo un sorriso. Tu hai detto che non bisogna essere coraggiosi ma realisti. C'era uno slogan del 68 che recitava siate realisti e dovete volere l'impossibile. Questo libro vuole il possibile, per cortesia compratelo, leggetelo, costa solo 10 euro quindi è una cosa praticabile, ce lo possiamo ancora permettere, vi farà compagnia ma soprattutto sarà molto utile. Grazie.